Nell'ambito dei controlli disposti dal comando provinciale, i carabinieri hanno arrestato tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e furto. In particolare a Torino in Via Tasso i militari del nucleo radiomobile hanno controllato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale che è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina. Lo stupefacente era pronto per lo spaccio già suddiviso in 37 involucri di cielo fan termosaldati. L'uomo è inoltre tentato di colpire i carabinieri operanti nel tentativo di sottrarsi alla verifica, venendo dunque arrestato anche per resistenza pubblico ufficiale. In Via Magenta a stessa sorte è toccato un cittadino senegalese di 26 anni fermato dai carabinieri della stazione Borgo San Secondo e le hanno trovato addosso un sacchetto contenente 15 dosi di cocaina e 12 di crack per un totale di 25 grammi di stupefacente. Il giovane alla vista degli uomini dell'arma ha tentato di disfarsi le portafoglie al cui interno sono stati trovati oltre 700 euro in contanti. Infine in corso Turati, sempre i militari della stazione Borgo San Secondo, sono intervenuti verso un supermercato dove hanno bloccato un cittadino italiano di 25 anni che aveva appena rubato accessori tecnologici e cosmetici. La merce è stata recuperata e restituita al responsabile dell'esercizio commerciale. Grazie a tutti!